ciao ragazzi buongiorno domenica avvo 24 gennaio siamo a Cervigna come il solito dovrei essere all'Indian Park ma ha fatto di nuovo un botto di neve e quindi questa mattina aspettiamo che arrivi i gatti per dare un po' di nuovo di forma e spazio e tutto adesso vi lascio admirare quello che è questa mattina è un vero spettacolo per i radio dunque noi ci rivediamo fin settimana ma sicuramente per il viaggio prossimo per ripartire con gli doppi devi chiappare e anche con Cervigna come oggi oh da Cervigna è tutto sta raga, al weekend prossimo